Arrestato, l'imam del carcere di Alessandria esortava la jihad ed esaltava gli attentati terroristici. Martino Villosio. Entrato in carcere per spaccio, in carcere si era radicalizzato e in carcere, diventato nell'imam, aveva iniziato a radicalizzare. Storia di El Alam Bukta, nazionalità marocchina, nelle accuse che il ROS di Torino gli ha notificato nella casa circondariale di Novara. La più grave, istigazione al terrorismo. Nelle conversazioni, in luoghi appartati con altri detenuti, ma soprattutto nella preghiera del venerdì, sfruttando il ruolo di imam del penitenziario di Alessandria, avrebbe esaltato attentati, tra cui quelli più recenti, in Francia, incitato a distruggere il Vaticano, espresso ammirazione per Bin Laden e volontà di martirio. Le perquisizioni del ROS, oltre che nei confronti della moglie cinquantene dell'imam, anche nelle celle di cinque detenuti, non sono indagati, ma dalle intercettazioni emerge come le parole di odio avessero aperto una breccia nelle loro convinzioni, mentre altri detenuti di religione islamica sono stati all'origine delle segnalazioni al carcere da cui è partita l'inchiesta, insofferenti alle parole di odio, con incitamenti alla rivolta anche dentro il carcere, riversate su di loro dall'imam.